Ancora una tragedia dell'immigrazione nel Mediterraneo. Un barchino di 6 metri con a bordo 8 cadaveri è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera che ha effettuato il soccorso a 42 miglia da Lampedusa in Acque Sarmaltesi. L'imbarcazione era stata avvistata da un peschereccio tunisino che si trovava fra l'Italia e Malta e ha lanciato l'allarme. I soccorritori hanno trovato una situazione disperata. A bordo c'erano 8 cadaveri, 5 uomini e 3 donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. Ci sarebbero anche due dispersi. Secondo quanto, raccontato dai migranti sopravvissuti, una donna avrebbe gettato in mare il suo piccolo di 4 mesi morto per il freddo durante il viaggio. Un uomo si sarebbe tuffato in acqua sperando di recuperare il corpo del neonato ma sarebbe annegato fra le onde. A Lampedusa, nelle ultime ore, sono giunti altri 156 migranti.